giorno allora oggi è venerdì ieri avevo ieri era giovedì grasso avevo iniziato a girare qualcosina ma alla fine ho lasciato perdere perché non non ho fatto niente ho portato solo i bambini un po giù in piazza a giocare con i loro amici e basta e poi so crollata nel divano a dormire perché ultimamente non so perché sarà il cambio stagione ma dormo tantissimo ieri mi è arrivato però un pacco da shane di alcune cose che ho ordinato tra cui ci sono delle camice di samuele che sono qua e poi ci sono un paio di cose mie e un paio di cose di aurora e ve le volevo far vedere però perché mi dispiaceva non farvele vedere insomma perché sono secondo me cose carine quindi adesso io vi posiziono un attimo da qualche parte e vi faccio vedere queste cose che ho preso che sono poche ve lo dico subito sono due cose in croce sono quelle lì queste qua non ho preso tantissimo perché poi dovrò fare un ordine da shane per altre cose in vista dell'estate però intanto vi faccio vedere queste ora non so se questo sarà un video vlog o un mini video haul comunque voi prendete quello che esce allora con un inquadratura un po lasciata così al caso scusate se ogni tanto faccio questa cosa qua ma stamattina mi sono svegliata che mi rifà male un'altra volta qui la contrattura ma più che altro mi fa male tutto il nervo dietro e dovrò fare il massaggio con il cuscino e poi stasera pilates perché assolutamente c'è troppo 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 dolore comunque allora ad aurora preso prima di tutto questo che è un cerchietto fatto con tutte queste qui che ovviamente si leveranno al primo utilizzo ai ragazzi perché sono molto 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 attaccate con lo sputo diceva mio padre comunque è morbido è morbido e all'inizio l'avevo preso in tre colori perché praticamente io cosa faccio quando ordino su shane non è che ordino tutto insieme all'ultimo secondo io guardo su shane ogni tanto da volta a settimana tipo e metto nel carrello quello che mi piace poi quando è il momento che posso fare l'ordine che arrivano il momento di fare l'ordine allora vado al carrello e guardo no quello che effettivamente voglio prendere quando sono andata a fare l'ordine quando sono andata a fare l'ordine dei tre colori che avevo preso di questo perché avevo preso questo il celeste e il nero purtroppo è rimasto solo questo gli altri non c'erano e quindi intanto le ho preso solamente questo poi se vedo che le piace che mi chiede altri colori allora le prenderò altri colori però intanto questo molto molto bello date fa parecchia scena veramente bello con un bel vestitino adesso che vengono le belle giornate mi piaceva anche per la comunione poi sempre a lei ho preso un completo non so neanche come chiamarlo perché comunque i colori sono diversi allora ho preso questa felpa qua che ha il cappuccio ed è fatta a metà a me piacciono tantissimo poi adesso hanno molto le tute o comunque le magliette le felpe fatte a metà la cena di telly whale due di là che mette tantissimo e io l'ho voluta prendere questa piace di piaceva tantissimo questa fantasia qui e ho preso ho preso questo colore rosa perché il nero per abbinarlo ai leggins non c'era come non c'erano i leggins e rosa ad abbinare alla felpa quindi le ho preso la felpa rosa e il sotto il leggins e l'ho preso così la fantasia questa qui è sempre uguale non cambia questo è un leggins molto 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 tutte cose molto leggere ai ragazzi molto molto leggeri prettamente estive però a lei piaceva e quindi glielo ho preso vediamo un po come ci si troverà ancora non la provate quindi quindi prendete un po tutto così con le pinze poi semmai se riesco vi ci allegherò un delle foto o dei video di prova e queste sono le cose che ho preso a lei invece io ho preso innanzitutto un paio di orecchini perché volevo vedere un attimo come se li tolleravo perché io sono un tipo un po allergico e ho voluto prendere questi orecchini che li cercavo da una vita cioè sono mesi che cercavo questi orecchini eccoli qua sono gli orecchini praticamente vanno adesso così tutti belli sgargianti che vi si vede lontano un chilometro e li ho voluti prendere perché mi piacevano a me all'inizio piacevano quelli proprio tutti giù e infatti ce l'ho nel carrello ancora e però per provare ho ho voluto cominciare a provare questi penso che mi sono fatta un po influenzare si influenzare da il grande fratello che praticamente ce l'hanno tutte sto orecchini so come è possibile sono tutte gli stessi orecchini e gli stessi gioielli comunque questi sono gli orecchini calcolate che la bigiotteria di shane costa proprio niente veramente poco a poi sempre aurora scusate ha voluto questi paio di pantaloni allora dietro questi pantaloni c'è un po una storia perché un paio di pantalone che lei ha visto che io ho comprato al figlio di una mia amica gli era piaciuto e quindi l'ha voluto io l'ho cercato su shane l'avevo trovato anche in colori pastello tipo rosa chiaro celeste eccetera ma lei non gliene ha fregato assolutamente niente lo voleva nero e quindi l'ha preso nero è un pantalone un po particolare perché innanzitutto è leggerissimo ragazzi veramente leggero quindi questo prettamente estivo è un pantalone nero cargo con la catena fatta così che si perde e si rompe come la guardi ma la particolarità sono queste sono ste cinghie che praticamente neanche se cioè in teoria tu potresti anche metterle ma vanno giù così vanno giù così l'ho vista anche su tik tok a qualcuno stiva questo tipo di pantaloni e sotto c'hanno l'elastico che vi dico ragazzi ha voluto sti pantaloni se li devi mettere lei ne li ho metto io quindi se gli piacciono ben venga adesso passiamo invece a quello che ho preso io allora io non potevo non prendere un sottotuta però stavolta ho voluto prendere un sottotuta leggero perché i sottotuta pesanti ce n'ho un milione e mezzo e quindi ho voluto prendere questi allora ho preso una 48 di questi pantaloni per il semplice fatto che a me i pantaloni della tuta piacciono larghi super larghi a meno che non so leggins quindi ho preso una 48 sono leggerissimi con l'elastico la cosa particolare il fondo che a queste fiamme che hanno questi colori pastello ok un po sull'unicornato su un po sull'unicorno ecco e li ho voluti prendere non l'ho ancora provati vi farò sapere poi e ho poi preso tre camicie allora io non sono un amante delle camicie mai stata un amante delle camicie ultimamente le sto mettendo non so il perché mi stanno cominciando a piacere le camicie io ce l'avevo già le camicie nell'armadio cioè chi è che non c'è le camicie nell'armadio ce l'avevo però preferivo sempre mettere la maglietta non lo so per comodità per tante cose e però ultimamente le camicie mi stanno piacendo tanto quindi che ho fatto ho cominciato un po a girare per cercare delle camicie un po particolari perché io non sono amante della camicia bianca semplice nera semplice ce l'ho un paio massimo due nere me sa che c'ho c'ho una bianca una celeste e una blu stop di quelle a tinta unita ce l'ho quelle proprio che servono magari per delle occasioni particolari per delle cerimonie eccetera quelle ce l'ho volevo delle camicie che non fossero semplici ma che fossero particolari e che potevano dare quel tocco diciamo in più di vivacità a un look semplice anche con un paio di jeans e con magari un uno stivaletto nero classico e sopra un blazer o un giacchetto e quindi sono andata un po alla ricerca di queste camicie allora un paio di camicie le ho prese dalla mia amica a roma nel negozio new diva a roma della mia amica che mi sono piaciute tantissimo che ho già messo nell'armadio lavato già messo nell'armadio sto fine settimana se usciamo sicuramente una delle due le metto poi girando su shane ho detto fammi un po vedere le camicie perché già giravo per vedere le camicie a mio marito mio marito non si sa perché adesso ha preso che gli piacciono le camicie barocche quando praticamente è stato tutto l'anno scorso a dirmi che a lui le magliette barocche quelle con l'oro non gli piacciono però si sa perché si ha comprato le camicie con i grigori oro e va bene allora ho detto fammi vedere pure a me allora partendo al presupposto che le camicie che ho preso per lui sono di un tessuto diverso da quelle che ho preso per me ma io sono molto più contenta perché il tessuto che c'è in queste camicie che è molto leggero a me cade molto meglio del tessuto invece quello un pochino più rigido e un pochino più spesso che ha preso mio marito nelle sue di camicie comunque ho chiacchierato anche troppo per spiegarvi questa storia bellissima affascinante del perché io abbia comprato delle camicie alla bellezza di 36 anni che non l'ho mai comprate e quindi adesso vi faccio vedere logicamente perché se no che famo allora la prima camicia che vi faccio vedere è questa che in realtà non è una vera e propria camicia ma è una blusa perché qui non c'ha i bottoni ed è fatta in questo modo io per camicia intendo anche queste quindi abbiate pazienza allora questa qui è questo celeste ovviamente maculata ma maculata rosa cioè potevo lasciarla lì gridava proprio manuela compra me mi piace perché hai l'elastico ai polsi e non è lunghissima quindi questa è la prima io non so perché il telefono mi sta sfalzando un po i colori ma vi assicuro che è un celeste proprio cielo con il rosa rosa confettino diciamo e marrone e questa è la prima di taglie io ho preso ho fatto affidamento alle ai centimetri su shane perché comunque alcune cose sono leggermente più piccole anche se sono della stessa taglia poi ho preso questa che è una camicia bianca ma tutte queste scritte anche questa è una semi camicia una blusa perché ha solo i bottoni qui fino a questo punto qua e è fatta in questo modo questa invece è proprio cioè è proprio camicia c'ha pure i polsini a camicia però era particolare perché aveva tutte queste scritte messe al contrario che non si capisce il motivo per cui siano scritte al contrario però va bene nel senso mi piaceva perché è comunque semplice e può andare bene anche con un look un pochino più elegante ma rendendolo particolare con poco e poi c'è ovviamente la camicia che non potevo non lasciarla lì conoscendo il mio comunque come si dice il mio amore il mio coinvolgimento con loro ultimamente che sono diventata molto molto barocca con nell'ultimo anno non potevo non prendere questa la cosa bella è che mio marito l'ha presa identica con la stessa stampa quindi ho preso questa camicia qua questa è una vera e propria camicia c'erano di diversi colori però l'ho voluta prendere nera perché l'oro risaltava di più ed è un po' sullo stile di cavalli no come si chiama sullo stile di armani di versace è un po' sullo stile di versace ecco però mi piaceva troppo 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 e quindi l'ho voluta prendere calcolate che io tutte queste cose comunque le ho prese su shane utilizzando i coupon e utilizzando i punti perché tutte le volte che fate un ordine su shane praticamente c'è vi danno dei punti che poi voi potete scaricare per farvi avere un ulteriore scontistica comunque questo è tutto quello che io ho preso su shane spero che questo video vi sia piaciuto e penso che lo taglierò qua perché sto a 16 minuti che parlo quindi ho fatto proprio un video e vi saluto quindi e spero di continuare questo vlog allora magari domani anche volendo questo fine settimana Aurora avrà una gara di karate a Bolsena quindi andiamo là speriamo bene è la sua prima gara di karate quindi io non so neanche che aspettamme e niente vabbè detto questo io vi saluto fatemi sapere se le cosine che vi ho fatto vedere vi sono piaciute se anche voi magari prendete su shane se avete dei consigli magari su cose che io non ho visto e che mi volete consigliare vedendo comunque lo stile comunque che metto io un po così particolare e niente io vi saluto vi mando un bacio iscrivetevi al canale commentate ciao